Musica Sasha Pieters, la Alison della famosa serie tv Pretty Little Years darà la luce suo primo figlio ad ottobre. L'attrice ha dato l'annuncio della gravidanza con un post su Instagram dove compare con il marito. La foto è accompagnata dal seguente annuncio. Siamo talmente entusiasti di condividere finalmente la nostra dolce notizia con tutti voi. Ovvero che questo ottobre daremo il benvenuto ad un piccolo e prezioso umano. Oggi è il nostro secondo anniversario di matrimonio e quale modo migliore per condividere la nostra gioia se non il giorno in cui la nostra vita è cambiata per sempre. La prima volta. La maternità è ufficialmente il mio ruolo preferito in assoluto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS